Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi siamo qui per parlare del Napoli Primavera che ha battuto per 3 a 2 la Juve nel campionato Primavera. Sappiamo che battere la Juve è sempre una goduria, è sempre una bella soddisfazione anche se si tratta della Primavera, anche se si tratta di FIFA 18 è sempre una soddisfazione battere la Juve in qualsiasi modo. Comunque azzurrini che hanno fatto davvero una grandissima partita hanno giocato davvero molto bene e messo in mostra anche un ottimo calcio soprattutto in occasione del secondo e del terzo gol. E oggi quindi sono qui a fare questo post partita approfittando del fatto che ho avuto la possibilità di vederla questa partita perché ricordiamo che del campionato Primavera trasmettono in tv soltanto due partite la settimana non sempre, raramente hanno trasmesso il Napoli Primavera per quanto riguarda il campionato soltanto un 4-5 volte e quindi oggi, visto che l'ho vista, sono qui a fare questo post partita. Comunque gli azzurrini che si portano in vantaggio con un calcio d'angolo battuto molto bene e di testa Senese il difensore centrale segna il gol dell'1-0 davvero bellissimo colpo di testa di Senese e bel gol Senese che inoltre ha anche giocato un'ottima partita in fase difensiva Senese che ricordiamo era stato convocato anche da Sarri per la gara d'andata di Europa League contro il Lip sia quindi a un calciatore che è stato anche già testato da Sarri il primo tempo comunque finisce 1-0 Napoli che mantiene bene il vantaggio e anzi anche qualche occasione per portarsi sul 2-0 Poi nel secondo tempo davvero diamo spettacolo secondo gol davvero bellissimo grandissima azione sulla fascia destra Gaetano la mette in mezzo per Zerbin che segna il gol del 2-0 e questa è stata davvero un'azione alla Napoli di Sarri davvero azione spettacolare ed è stata un'azione spettacolare anche quella del 3-0 gol abbastanza simile sempre Gaetano che la mette in mezzo per Palmieri che segna il gol del 3-0 Palmieri che è davvero molto forte ricordiamo che Palmieri è il centro avanti e soprattutto nelle ultime partite davvero sta facendo dei gol spettacolari due settimane fa contro il Milan gli azzurrini erano in svantaggio e con una punizione da lontanissimo riesce a pareggiare la partita al novantesimo poi anche la settimana scorsa segna un gol in semi rovesciata contro la Lazio quindi Palmieri che soprattutto in queste due ultime partite sta facendo molto bene ma ovviamente il calciatore di maggior talento di questo Napoli primavera è Gianluca Gaetano che è da inizio stagione che mostra davvero grandissime qualità tecniche e inoltre ha fatto anche molti gol ha fatto 11 gol in questo campionato primavera ricordiamo che fino a qualche settimana fa la situazione non era proprio un granché Napoli che addirittura si trovava quasi in lotta per la retrocessione ricordiamo che da quest'anno sono stati cambiati criteri per quanto riguarda il campionato primavera c'è il campionato 1 e il campionato 2 ovvero sarebbe serie A e serie B e ci sono anche le retrocessioni però ora siamo reduci da due vittorie consecutive con Lazio e Juve e con un pareggio con il Milan e quindi ora ci siamo tirati fuori dalla lotta alla retrocessione forse la squadra doveva assimilare meglio gli schemi di mister Beoni che ricordiamo è subentrato a Saurini che è stato esonerato a metà novembre inizio dicembre quindi ragazzi davvero grandissima vittoria dei nostri azzurrini in casa della Juve poi alla fine la partita è finita 3 a 2 soltanto negli ultimi 10 minuti abbiamo un po' sofferto la Juve ha trovato due gol anche in un modo abbastanza fortunoso Napoli che forse ha pagato un po' la stanchezza perché primo e secondo tempo soprattutto secondo tempo fino all'ottantesimo siamo andati davvero a mille quindi ragazzi detto questo io vi saluto noi ci vediamo ad un prossimo video e sempre forza Napoli grazie a tutti